Allora sono qua con SimSolid e un'altra cosa un po' a mio avviso noiosa è che per esempio ho creato una linea ma non posso nasconderla ok add, edit, comment, coseria, posso rinominarla, cancellarla, dunque se volessi nasconderla momentaneamente non posso dunque vado a cancellarla, mi rimetto qua in posizione front ok ok vabbè ho quella linea là però vabbè anche lì se non la volessi sarebbe bello poterla nascondere vabbè che uno dice ma anche solo quella lì ok solo quella lì perché penso che posso nascondere tutto ma non non solo quella lì penso vabbè adesso io voglio andare a fare invece che creare uno spot dunque vado a creare uno spot qui mi dice A e B è una linea dunque io porterò questo 0 e questo qua mi fa i fa i fa o B ok giusto non tutte e due 0 se no diventa appunto e dunque vado a mettere questa qui 10 vediamo 10 ok però questa mi diventa una linea allora qui devo mettere 10 di qua e devo mettere 0 qui ok ok e dunque dovrebbe qui to position the spot usare left mouse button to rotate or right mouse button to drag the spot io lì sono sono giusto 0 0 0 oggettivamente vediamo se eh no io ce l'ho eh anche qui quando vedo qua lì doveva era giusta allora io adesso mi metto anche questo è un po' è che non posso più farlo ah 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 dovrei metterlo y5 che era la sopra giusto perché se metto zero era lì questo è il punto ok 5 però io adesso devo e non riesco più e questa è una menata perché adesso devo fare cancel me lo riporto qui resta un po nominata lì però avendo questi qua io dispendevo non riesco a sapere qual è dunque andiamo a ricreare lo spot qui abbiamo detto 10 00 ma qui deve essere 5 ok perché deve andare però io quando non vedo e facciamo ok o c'è l'ho lì sono stato fortunato e adesso è lì ok però ecco un po macchinoso però va bene d'altronde se no uno si crea qualcosa prima sul solido però vuole anche questione di fare abitudine vabbè ci vediamo alla prossima arrivederci